Abbiamo ascoltato Del Grosso che recrimina fortemente per un rigore non dato dal direttore di gara, lei dalla tribuna cosa ha visto? Io dalla tribuna ho visto che di rigori non dati ne erano due netti, penso che il peggiore in campo sia stato l'arbitro in assoluto, un arbitro inadeguato ad arbitrare questo tipo di partite, fin dal primo minuto ha cercato di indirizzare la partita in un modo, non capisco il perché, alla fine della partita i giocatori del Notaresco tiravano via la palla e l'arbitro non ne ha ammonito uno, cosa inspiegabile, mai vista fino ad oggi in un campo di calcio a questi livelli e che dire, è riuscito anche ad ammonire Barlafante quando l'azione era nettissima per il caccio di rigore, quindi recrimino fortemente un arbitraggio scandaloso. Per quello che riguarda la mia squadra abbiamo lottato dal primo all'ultimo minuto, la squadra voleva riportare in parità il risultato, purtroppo i derby si giocano sui nervi, si giocano sugli episodi, il Notaresco è stato bravo a fare gol su una nostra ingenuità, su un'ingenuità di Damutene e poi dall'in poi però abbiamo sempre e solo fatto la partita noi, abbiamo cercato di attaccare, abbiamo avuto poche occasioni da gol però in due occasioni, una su Gaie e l'ultima su Barlafante, è stato clamoroso che l'arbitro sia andato ad ammonire il giocatore quando si è visto nettissimamente dalla tribuna che è stato sgambettato.